Fun numbers! OOOOOOOO YOOGIA! Non so come si gioca questo stupido gioco di carte. Oh nonno mostraci la carta più rara. Oh eccolo qui. Carta rara? Il Drago Supremassio Bianca Occhi blu. Tu vieni con me, vecchio. Ehi! Dove mi stai portando? TRISTAN! Wow Tristan è un buona nulla! YOOGIIIIIII! Fottiti YOOGIE! Tu sei un mostro Kaiba! Io evoco il drago Supremazia Bianca! Cristo santo! Non morde, vero? No, è un olocante! Eccone un altro! Tu stai varando, Kaiba! È il mio turno! Diglielo, Tristan! Sì, beh, sono piuttosto popolare su TikTok! E un altro! Exodia! Facciamo uno scambio! Ecco a te! Le mie carte! Non temere, Yugi, ho tutto sotto controllo! Non mi fregherai di nuovo! Joy, devi prestarmi il tuo deck per il prossimo duello! Yugi, dobbiamo vincere per voi! È venuti nel regno dei duellanti! L'ultimo che toglierà la mano dal mio cazzo vince! Posso continuare tutto il giorno! Quale uccello devo succhiare da queste parti? Ghegheghi! Duello! Io evoco l'Adi Arpia! Ehi, Kaiba! Si può fare sesso con questi ologrammi? Sicuro! Aveva detto di essere un mostro di livello 18! Sono un tipo di mare... La luna! Hai perso! Ehi, ehi! Quel ragazzo mi ha rubato il telefono! Ancora ballando, Yugi! Sono io, Yugi! Duelliamo! Non temere, Yugi, ho tutto sotto controllo! Uso l'incantesimo plot armor! Una carta che è stata proibita! Ma fate qualcosa! Potere dell'amicizia! Mia sorella, Yugi! Ah, che si fo... Sono sempre stato io! Non mi serve una strategia, perché io sono il protagonista! Ciao ragazzi! Se anche questo riassunto di Yugi! Vi è piaciuto, mi raccomando, mettete il solito pollicciazzo su e lasciate un commento qui sotto! Noi ci vediamo ad un prossimo video! Non mancate!